Saranno avviate nelle prossime ore le operazioni di recupero del relito rinvenuto mercoledì nello specchio del Marionio, antistande fiumecrati ai confini tra i comuni di Corigliano e Cassano, ad accorgersi della presenza del corpo in metallo accartocciato lungo circa 6 metri il comandante di un motopeschereccio della marineria di Schiavonea. Attualmente, dopo un primo tentativo di recupero, il relito si trova adagiato sui fondali del porto di Corigliano. Tra le ipotesi ventilate, la possibilità che si tratti dei resti di un caccia della marina militare precipitato a largo della costa ionica calabrese nel luglio del 2010. In quella circostanza, il velivolo di rientro da un volo di addestramento ebbe un guasto tecnico che lo fece inabissare nelle acque dello Ionio. Il comandante del caccia, appartenente al gruppo aeromobili della marina a distanza Grottaglie, dopo aver notato delle anomalie, riuscì a gettarsi con i paracaduti e salvarsi, soccorso proprio dagli uomini della capitane di porto di Corigliano. Grazie Grazie.